Siamo con il consigliere del comune di Silvio Antonio Del Vecchio a poche ore dalla fine della giunta Comignani a Silvi. Lei è uno dei nove consiglieri che si è dimesso, ora a Silvi arriverà il commissario. Il perché di queste dimissioni? Il perché di queste dimissioni diciamo che noi l'abbiamo fatto anche con molta tristezza perché era un progetto su cui noi avevamo creduto tre anni fa che però durante questi tre anni è cambiato, è cambiato il sindaco, è cambiato il modo di amministrare, sono cambiati i progetti e quindi noi due mesi fa siamo usciti dall'amministrazione, dalla maggioranza siamo andati in opposizione facendo un'opposizione costruttiva. Si è creata questa occasione nell'arco di due o tre giorni, abbiamo aderito e quindi era giusto che questa amministrazione dopo la nostra uscita non essendo più una maggioranza elettorale che amministrasse il paese doveva andare a casa. Insomma noi riteniamo nella logica democratica che se si vota un'alleanza fatta da noi con il PD nel momento in cui si esce non può secondo noi dal punto di vista di rispetto degli elettori continuare ad amministrare. Si può parlare di fallimento della giunta Comignani? Secondo me sì, ma soprattutto fallimento nei progetti, nel modo di amministrare. Noi c'eravamo candidati tre anni fa per cambiare il modo di amministrare, il modo di risolvere il problema e il modo di portare le idee e i progetti coinvolgendo i cittadini, facendo dell'associazionismo, facendo un bilancio partecipato, lavorando sui rifiuti, lavorando su un nuovo progetto di variante urbanistica ecosostenibile. Non è stato fatto nulla di questo. Solo il primo anno abbiamo amministrato in maniera, credo, dirigendolo, l'ho detto anche in altre interviste, poi ci siamo fermati. Abbiamo smesso di amministrare e di progettare la Silvia del futuro e ognuno ha pensato un po' un attimino ad accrescere il proprio consenso elettorale personale. Ora si andrà verso un commissariamento che potrebbe durare un anno ma anche di più forse? Sì, credo che non si riuscirà a votare per quest'anno, credo che si andrà l'anno prossimo o primavera o forse non so se ci sarà l'accorpamento con le politiche, quindi penso un anno in cui possiamo lavorare e coinvolgere i cittadini in un nuovo progetto politico.